La nostra identità cristiana Siamo entrati nella Chiesa con il Battesimo, lì siamo cristiani. E per questo avere l'abitudine di chiedere la grazia della memoria, la memoria del cammino che ha fatto il popolo di Dio, anche della memoria personale. Cosa ha fatto Dio con me nella mia vita, con me ha fatto camminare. Chiedere la grazia della speranza, che non è ottimismo, è un'altra cosa. E chiedere la grazia del rinnovare tutti i giorni l'alleanza con il Signore che ci ha chiamato. Che il Signore ci dia queste tre grazie che sono necessarie per l'identità cristiana. Grazie. 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 Grazie.